felice navigata è possibile suonare con otto bassi certo che è possibile come si fa ti racconto qua in questo tutorial imposta la mano destra sono sol e si do re che serviranno do maggiore fa maggiore sol maggiore e do maggiore do maggiore fa sol maggiore e do maggiore per tutta la canzone però ripetiamo i dettagli una frase per frase e studiamolo insieme sole si do re ci sono prima frase lo rifai ancora due volte hai notato che ho suonato in chiusura non dimenticare anche tu e li fai anche in chiusura cosa ci serve a sinistra ci serve do maggiore e poi scendiamo sul fa questo potrebbe un brano dove potresti anche provare fare basso alternato ma un po più avanti proviamo l'intreccio do maggiore poi andiamo giù sul fa do do maggiore destra giù lo rifacciamo ancora un po più veloce do maggiore giù giù sul fa maggiore ma sulla nota della destra di la terza volta do maggiore poi giù prossima frase anche per questa frase ci servono stesse note non spostare la mano cosa ci serve a sinistra che serve sol maggiore che sopra il do seconda volta e andiamo sul do proviamo a suonare la destra è molto simile come abbiamo fatto prima ma usiamo l'altro dito e le altre note lo rifai ancora e tini già sol sol maggiore sotto la sinistra terza volta ma dice tre volte così camminci a ricordare l'intreccio camminciamo sul sol cancelliamo prima nota della battuta perché è una nota per finire sostituiamo con una pausa per adesso sol sol maggiore giù senti un tasto speciale l'altra volta e terza volta ok ci sono la prossima frase noi stiamo sul sol allarghiamo ma solo il pollice torniamo sull'a e sostituiamo con quattro ancora sol e sidore all'altra l'intreccio con sinistra ci serviranno do maggiore e fa maggiore do e fa insieme do maggiore come prima battuta giù allarghi il pollice e cambia le quattro la nota è stessa le ditte sono diverse due e quattro l'altra volta e terza volta l'ultima frase la quarta c'è una scala che scende ma le mani sulla fisarmonica salgono l'abbiamo fatto con quattro sol facciamo con mezzo e terza volta e terza volta abbiamo cambiato sull'a2 e la4 quindi arriviamo sol con il medio ma non pensare di mettere di mettere tutti i quattro li arriveremo perché è una scala discendente riaveremo facendola facendola prima volta che abbiamo cambiato così sol e terza volta sol medio non dimenticato non dimenticare di provare anche in chiusura tutta la frase cosa ci serve a sinistra? sol e do e sentite che è finito da senso di finale intreccio una insieme poi destra una insieme e giù sol do maggiore bis sol maggiore e sol con medio pronti via scala che un po' sale e un po' scende non dimenticare di suonare anche in chiusura proviamo una in apertura e una in chiusura sol con medio sol e sinistra e andiamo poi in do via chiudo se non ci riesci a fare una frase intera cambia sulla stanghetta di fine della battuta cambio anche se sentirai un singhiozzo fa niente quando diventerai più veloce puoi distribuire più veloce e non cambiare qui ti basterà il mantice vorresti suonare anche tu felice navidad lo spartito lo puoi scaricare qui e il brano completo per amerarlo le puoi ascoltare qua puoi ascoltare anche cantandola che ti aiuta per il ritmo alla prossima e suoniamo il più possibile ma consapevole che è un'altra che è un'altra che è un'altra